Aggiornarsi per crescere E' questo il claim scelto dall'Associazione Direttori Albergo Umbria per l'evento dal titolo Direttore Informazione organizzato da Ada Italia al Valle di Assisi Resort Una giornata interamente dedicata alla figura del direttore d'albergo tra seminari di aggiornamento professionale incontri con fornitori e professionisti dell'ospitalità coaching e momenti conviviali In questa giornata Direttore Informazione abbiamo chiamato sei relatori che sono arrivati in Umbria per parlarci e per aggiornarci sia su competenze tecnico-professionali quindi specifiche di settore come per esempio la SEO, i siti, la Brain Reputation Online piuttosto che il turismo bike come nicchia di mercato ma anche competenze trasversali di quelle che oggi chiamiamo soft skills quindi il problem solving, la leadership la comunicazione efficace Abbiamo anche parlato di cambiamento di quanto dobbiamo essere capaci di cambiare di quanto il turismo è cambiato da qui a vent'anni or sono e più cresciamo noi, più facciamo crescere le nostre strutture più facciamo crescere la qualità del nostro turismo e più richiamiamo ospiti turisti in Umbria perché comunque l'accoglienza si trasmette nel momento in cui si riesce ad avere una buona relazione, una buona empatia con gli altri parliamo appunto di intelligenza emotiva e questo fa sì che riusciamo veramente se siamo contenti noi, soddisfatti noi riusciamo comunque anche a trasmetterlo agli altri quindi chi arriva in Umbria deve avere la possibilità di fare un'esperienza andandosene con un ricordo indelebile Stiamo cercando di declinare al meglio nella nostra piccola regione lo spirito e la filosofia di questa associazione tramite degli incontri mensili di aggiornamento professionale proprio perché siamo ben consapevoli di quanto sia cambiato il turismo e l'ospitalità negli ultimi 15 anni, diciamo, gli ultimi 10 anni